MotoGP, Daniel Pedrosa. 3 mondiali 20 e 3, maledetti. Cari appassionati di motorsport, oggi vi parlerò di un nome che ha scritto la storia delle corse su due ruote, ma che ha anche conosciuto il lato oscuro del destino. Parliamo di Daniel Pedrosa, un pilota eccezionale che ha vinto tre campionati del mondo, ma che ha dovuto fare i conti con una serie di disgrazie che hanno segnato la sua carriera. Pedrosa è stato definito un baby prodigio fin dall'infanzia e oggi è universalmente riconosciuto come uno dei migliori piloti della MotoGP. Anche se ora lo vediamo principalmente come collaudatore, ha dimostrato di essere ancora un pilota di classe, come abbiamo visto nelle libere a Geres della Frontera e a Misano, che ha centrato due quarti posti nelle due gare. Ma veniamo al punto cruciale, perché Pedrosa non ha mai vinto un titolo mondiale nella classe regina. Tre volte è stato a un passo dal trionfo, ma il destino ha giocato brutti scherzi. Nel 2008 Pedrosa sembrava inarrestabile al Saxenring, con una solida leadership nel campionato. Ma un falso avviso dal box Honda lo ha fatto cadere in modo spettacolare sotto la pioggia, consentendo a Valentino Rossi di rimontare e vincere il titolo. Nel 2011, un incidente con Marco Simoncelli alle man, Ilii, ha causato una frattura alla clavicola, consentendo agli avversari di avvicinarsi in classifica. Simoncelli, sfortunatamente, non sarebbe sopravvissuto molto a lungo a causa di un tragico incidente a Sepang. Il 2013 sembrava essere l'anno di Pedrosa per vincere il titolo, ma una collisione con il suo compagno di squadra Marc Marquez all'Aragon lo ha fatto cadere, consegnando il titolo al giovane Marquez. Dopo una carriera di successi parziali e infortuni, Pedrosa ha deciso di abbandonare la competizione a tempo pieno nel 2018, ma ha continuato a lavorare come tester per l'HTM. Tuttavia, il suo ritorno in pista a Ieres l'anno scorso ha dimostrato che il suo talento è ancora intatto. E ora, recentemente, abbiamo visto Pedrosa ottenere un ottimo quarto posto a Misano, riportandosi nella lotta per il terzo posto. C'è chi si chiede se dovrebbe tornare a essere un pilota a tempo pieno per l'HTM, ma la concorrenza è forte e le moto non sono infinite. E voi, cosa pensate di Daniel Pedrosa? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale The Sport News per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo delle corse.